che vuol dire che ci hanno votato il conto lui mi ha rubato tutto io sono stato in questa casa con questo marcello per una innocente carbonara sei licenziato ma io l'ho trovato fa il chirurgo ma chi ci è andato in banca un vigile ma come non lo conoscete dove lo trovo questo padre marcello come fa di cognome so solo che ama i loro loro chi quando qualcuno c'è di loro la gente cosa risponde loro i ladri chi ha tutte manca per scrivere vendita un martello insomma che cosa vuoi da me ti risarcisco dove vai tu vengo io ma perché non ti fidi no che banda noi siamo una famiglia come tutte le famiglie cerchiamo di arrivare a fine mese pisello come si chiama la suite il dottor pisello diciamo che sono un compositore della realtà in alto in alto che cazzo fai lassù e mi ha detto vai in alto sempre più in alto sali sali e qua sto ridi adesso piangi sul tram godi come ha detto scusi e sognavo di vivere proprio così io non voglio sa ci lavorare da solo anche se ho un colpo da due milioni di euro guarda che io imparo in fretta il mio cane ha trovato un piede ma certo che umano c'è la scarpa attaccata in posizione tre due uno è la magia dell'arte spargi gioia e prendi grana i loro voi conoscete i loro? il truffato deve supplicare per avere la sua truffa perché io realizzo i suoi sogni lei deve aiutare la giustizia rimaniamo in tema di commedia perché ho per voi una curiosità sul film una notte da leoni contrariamente a quanto si possa pensare il dente mancante di Stu avete presente no? non è frutto di alcun trucco o effetto speciale applicato all'attore perché infatti a Edelms non è mai cresciuto uno degli incisivi dopo la dentatura da latte per cui fu necessario solo rimuovere l'impianto per girare il film l'avreste mai detto? a presto con nuove curiosità